Prima fermata, Chris Griffin. Oh, dobbiamo prendere Chris? E qual è il problema? Non andavamo esattamente d'accordo, specie dopo che è morto il nonno e mi ha lasciato quella sua casa galleggiante. Ad ogni modo puoi sempre usarla in primavera, nelle domeniche lavorative. Mi sono sempre occupato di te, Chris. Ti sei occupato di me? Sei il mio fratellino piccolo e ti prendi cura di me? Sono sceso per svapare. Manda Chris a fare questo, manda Chris a fare quello. Chi ha ancora da spalare il vialetto? Sono tuo fratello maggiore, Steve, e sono stato scavolcato. Già, ma è così che voleva il nonno. Non era così che volevo io! Se state facendo una conversazione personale, metto le cuffie. Io sono intelligente, non come tutti dicono, roba tipo stupida. Sono intelligente ed esigo rispetto. Funky cold medina. E andiamo a presentare la squadra di casa a partire dal coach Frank, arresto cardiaco Ross. E l'allenatore ai lanci? Bill, non so come si fa la rianimazione, ma è ghillicabbi. Non è cambiato tutto. Cleveland ancora non becca la United Airlines. Forse la mia chiamata non è così importante per loro. La sua chiamata è importante per noi, grazie per essere ancora in linea. Va bene, mi siete appena guadagnati un altro anno. E Simo sei ancora lì con la Spirit Airlines. Non ce ne frega niente di te, ma siamo quelli più economici, quindi stai lì e aspetta. Ah, stronzetta! Wow, hai una mano freddissima, Luke. Sì, beh, diciamo che non segui la corrente, gioca con regole sue, questo alle donne piace, si sa. Ecco, guarda qua. Ehi, baby, mi attizzi una cifra? Oh, sì. Oh, è arrapante. Ti dispiace se mi ci infilo? Oh, sì. A titolo di informazione, io finisco troppo presto o non parto proprio. Ciao, Meg, dacci dentro. Ciao, penne di Chris. Come andiamo? Stesso sperma, giorno diverso. Buongiorno, squadra. Peter, devi per forza portare quelle in casa? Sì, signora. Sono un coach di baseball adesso. Lo sapevi quando mi hai sposato. Peter, vuoi delle uova? Ma sono portato la mia colazione oggi, grazie. Ah, che schifo! Che cavolo, papo! Non ci vediamo da 50 anni. E non mi hai ancora detto che sono fichissimo. Sì, sei fichissimo. E grazie a me. Ho inventato la pillola per allungarti la vita. Si chiama Semperfido. Cosa? Perché? Non dici niente del fatto che ho inventato un nome carino? Ah, cosa? Perché? Ti ho dato la pillola di nascosto per farti vedere che il surriscaldamento globale è tutta una c***a. Mondo, cane, ci sbagliavamo di grosso. A dirla tutta fa molto più freddo ora. E grazie a te ci dobbiamo sorbire il presidente Orso Polare. È vero che odia il sigillo presidenziale? No, è stato un semplice fraintendimento. Niente più domande. Presidente, cosa ha fatto per un gelato Klondike Bar? Credo che il presidente abbia risposto a tutte le vostre domande. Così, ragazzi, forza, a giro della vittoria. Andate là e strappate gli vestiti. Ha appena vinto per noi. Coraggio! Sì, festatelo. Bene, con i calci. Ok, tirategli la maglia sulla testa e affogatelo col Gatorade. Sì, ha coltellato l'ora. Bene, appiccategli il fuoco, sì. Congratulazioni, tu ti facciamo la festa. Hai fatto una battuta da favola. Allora, come sta Frank Sinatra Junior? Voi due uscite sempre insieme? No, è morto. Non lo dimenticherò mai. Era il compleanno di Spiro Egno. Oh, vedo che sei appassionato di paraventi giapponesi. Ma sai, mi piace cambiare silhouette mentre porto avanti una conversazione. Con permesso. Beh, com'è andato il volo? È andato... è andato bene, con un piccolo scalo ad Atalanta. Che stai facendo lì dietro? Sto indossando qualcosa di più comodo. Ti interessa una cuffia da notte? Credo di avere un... Ticelli. Un po' di privacy, grazie. Non riesco a credere che i coag whooping scalpers siano arrivati ai play-off quest'anno. Al coach Griffin! Ah, grazie ragazzi. Ok, è ora di caricarmi di Oakley per la partita di stasera. Allora, Oakley fronte. Oakley attorno al collo. Oakley berretto da baseball. Oakley dietro la testa. Oakley da appendere la maglia. Oakley da gita in barca nelle Everglades. e Ray-Ban per i miei occhi, perché gli occhi sono orribili. Ma che diavolo era? Ho un sacco di soldi, Brian, ma continuiamo a parlare mentre faccio una doccia nebbiosa. No, no, aspetta. Stewie Griffin, vieni qui, di corsa! Sì? Ho qui la nostra foto per il biglietto di Natale. Vuoi dirmi che stai facendo con le mani? Niente. Esatto, niente. E cosa dice l'augurio in cima al biglietto? Buon Natale e scioccante anno nuovo. E che stanno facendo gli altri membri della famiglia con le mani? Lo shocker. Bravo. Ascolta, Stewie. Sono un papà tranquillo. Non mi importa di quello che fai con le dita. Davvero. Ma il dito che va dietro ti dà lo shock per la puzza. Mi spiego? Hai capito bene? Cioè, se è solo un dito va bene. Ma qualcosa ci devi mettere. Io credo che le persone non se ne accorgeranno nemmeno. Oh. 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 Grazie.